Siamo con Sabatore Buonavena, vincitore di questo VIP table alle Isob, una prima piazza, un sit and go tra amici, ma tutti grandissimi players. Sì, sono felice, sono contento di averlo vinto perché è un field veramente forte, tutti uno più bravo dell'altro e poi vincere con Mazzia nel Zap è ancora più bello, lo vedo lì che sta messaggiando e ti erode un pochino e quindi mi diverte ancora di più. Quindi c'è una prima piazza che ricordiamo era un tavolo VIP, il primo premio è stata l'iscrizione per le Isob 2012, quindi il primo iscritto ufficiale Isob 2012 main event è Salvatore Buonavena, Mister EPT e appunto Mazzia sta lì che sta messaggiando, però nel Zap bellissimo, cioè di livello. Sì, è stato un buon Zap, ma lo sapevo che sarebbe stata dura vincere con Daniele e comunque è bene così, ma con chiunque sarei andato in Zap, sarebbe stata dura perché erano tutti bravi, non c'era cosa scegliersi diciamo. Effettivamente eravate l'igota del poker seduto al tavolo. Salvatore, prossimi appuntamenti? E i prossimi appuntamenti riguardano il mio sponsor e quindi IPT di campione, quindi accorrete in masta ragazzi perché sarà... Quando è IPT? L'IPT è dal 20 al 29 di novembre, quindi fra dieci giorni. Quindi diamo appuntamento a tutti gli amici di Poker Stars e gli amici di Salvatore a campione per l'IPT, grazie mille. Grazie a voi, un in bocca al lupo, ciao alla prossima. Crepe il lupo.